Signora, che cosa pensa del suo ammorbidente? Come prodotto è molto buono. Ma ora l'ultramorbidezza sfida il suo ammorbidente. Una è la morbidezza che lei conosce e l'altra è l'ultramorbidezza. Le apra, le tocchi, prego. È molto più morbida. Cavoli, c'è una differenza enorme. Fa tenerezza. La vostra voglia è proprio di asciugarsi. È la morbidezza di Lenore Ultra, il nuovo ammorbidente che agisce in profondità come nessun altro. Lenore Ultra ha inventato le ultraparticelle che penetrano più in profondità degli altri nei tessuti. Questa è l'ultramorbidezza. C'è una differenza enorme. Veramente lo prenderò. Che carino. Nuovo Lenore Ultra, il più morbido.